Maurizio Costanzo è deceduto oggi all'età di 84 anni, recentemente parlò del suo desiderio di trascorrere tutta la vita con Maria De Filippi e di andarsene tenendole la mano. Attualmente non si hanno ancora notizie in merito alle cause dell'improvvisa morte, ma secondo alcune fonti potrebbero essere legate all'età avanzata. Grazie a tutti.